Buongiorno, sono i bambini. Mi chiamo Luigi, ecco che si intende bene. Da Porta Romana a Melegnano non c'era un negozio di cartoleria e il mio suocero, toc per toc, ha messo in piedi la cartoleria. Cosa succede? Poi ho conosciuto mia moglie. Il fatto sta che una sera mi ricordo chi è stato prima di... si è spuso. Bisogna capire il client se è un grattacchio o se va per le spicce. È una cosa che non è facile. Grazie.